Io riprenderei dal... Sono Ghidelli Gabriele, sono un collaboratore di Luciano Baracaracciolo e ci tengo a rilanciare l'intervento di Stefano Fassina che ha preso sicuramente gli elementi fondamentali che sono propedeutici a tutte le buonissime intenzioni che ho potuto ascoltare fino adesso. Ci sono soprattutto per il fatto che, come diceva il Presidente Maddalena questa mattina, la parte più importante della Costituzione è quella economica. I diritti fondamentali si difendono tramite la difesa del lavoro, della preoccupazione dello Stato sociale. I trattati europei sono il motivo, non ce ne sono altri, il motivo per cui i diritti costituzionalmente garantiti vengono compressi deriva dal fatto che i trattati europei sono fondati, sono contrapposti, non sono fondati sul lavoro, non difendono i diritti fondamentali. E poi c'è un grande assente di questa stamattina che invece giustamente chi mi ha preceduto parlava di moneta, parlava di moneta e non si è parlato di euro. Nel momento in cui giustamente Stefano Fassiva parlava di compressione dei salari, io ricordo che avendo una Costituzione è fondata sul lavoro. Nel momento in cui non si può svalutare la moneta ed è necessario svalutare i salari, andiamo direttamente a cozzare con la parte fondamentale della Costituzione. Qualsiasi aspirazione, di qualsiasi tipo, egologismo, anche parità di genere ho sentito. La parità di genere, richiama il primo comma del terzo articolo, non ha senso dire signore e signore, parlare di genere in modo così cosmetico, quando il secondo comma del terzo articolo che mette in luce, che è lo Stato e la Repubblica che deve rimuovere gli stacchi di ordine economica e sociale per la parità e l'uguaglianza sostanziali dei cittadini, e questo non è possibile proprio per i trattati dell'Unione Europea e per la moneta unica. Io ricorderei che questa coscienza non c'è, perché c'è un'ideologia che si chiama europeismo e che è stato portato avanti fino adesso e che è ora di prendere coscienza che questa ideologia toglie coscienza nazionale e coscienza di classe, che sono poi ciò che è fondamentale per avere il valore della Costituzione. Ecco, grazie. Grazie.